Perplessità sulla volontà manifestata da Eni di modifica del progetto di costruzione della piattaforma Argo Cassiopea che prevede la riduzione della portata finanziaria dell'investimento programmato nell'entese. Il rispetto di quanto definito negli accordi del 6 novembre del 2014 è fondamentale per il rilancio del sistema industriale con gli effetti previsti per l'occupazione diretta e indiretta. Lo dicono i segretari generali di Cigelle e Cisle Will in merito all'incontro di monitoraggio sul protocollo Gela che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico. Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania rivendicano chiarezza e chiedono al colosso industriale rassicurazioni in tal senso. Leni sottolineano dovrà pertanto garantire alla città di Gela che gli investimenti concordati non subiscano nessuna modifica. Pur apprezzando le ricadute sul piano della sostenibilità ambientale e delle previsioni occupazionali ipotizzate dal nuovo progetto di realizzazione di impianti a terra nell'area della raffineria ribadiamo, continuano i sindacalisti, l'importanza del rispetto delle tempistiche realizzative dell'accelerazione degli iter autorizzativi e della certezza delle realizzazioni industriali ed infrastrutturali. Il tutto dovrà essere verificato da un continuo monitoraggio nazionale e locale attraverso incontri sia di natura tecnica che politica. Il Governo ha tra proposito ribadito la necessità delle verifiche articolate e che l'eventuale risparmio, determinatosi con la rimodulazione del progetto originario, venga reinvestito da Eni sul territorio gelese. Infine è stato previsto un ulteriore incontro per gennaio 2017 al fine di valutare la coerenza degli obiettivi fissati nel protocollo, molti dei quali attuabili da mesi. Ciò che l'Eni risparmia in merito alla realizzazione dei progetti va investito a Gela chiudono Giudice, Gallo e Castania. Il piano di ottimizzazione del progetto Eni per l'area di Gela, Argo, si potrebbe presentare positivo ma abbiamo chiesto che i risparmi economici che saranno ottenuti vengano reinvestiti sul territorio per ulteriore rilancio dell'area. Lo dice la segretaria UGL chimici di Caltanissetta, Andrea Lario, al termine del tavolo di verifica che si è tenuto al Mise con il Vice Ministro Teresa Bellanova, parti sociali, verticieni e rappresentanti delle istituzioni locali. Il piano, spiega, consentirà di ottenere benefici a livello di impatto ambientale ed energetico oltre a consentire di ridurre le risorse utilizzate ed incrementare il personale impiegato nell'indotto. Tuttavia, aggiunge, è importante che le risorse risparmiate siano impiegate nell'area industriale di Gela affinché i lavoratori coinvolti, sia diretti che dall'indotto, e il territorio possano beneficiarne direttamente. Abbiamo inoltre sottolineato, aggiunge Alario, che il cronoprogramma previsto dal protocollo siglato nel 2014 sia rispettato e che ci siano verifiche a cadenza più serrata al fine di monitorare costantemente gli investimenti e il rilancio dell'area.